Gravi danni al suolo, alle piante erbace e in generale all'ecosistema di un'ampia aria con superficie pari a circa 20 ettari. E' quanto lamenta l'Associazione Appennino Ecosistema che ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Sulmona, ai Carabinieri e al Ministero dell'Ambiente, sui danni riscontrati al patrimonio ambientale, in piena zona a Bine, Parco Nazionale della Maiella, a causa dei lavori connessi a un cantiere forestale di grandi dimensioni per scopi commerciali, in località Fonte Romana, Difesa di Pacentro. In alcuni casi sono state realizzate vere e proprie piste per il transito dei trattori, con sbancamento delle relative scarpate di circa 300 metri di lunghezza, larghezza di 3-5 metri e scarpate alte da 30-150 centimetri. Il ripetuto transito dei trattori per l'esbosco del legname sul delicato suolo forestale, reso ancora più fragile dalle correnti condizioni meteorologiche che hanno determinato un'elevata presenza di acqua, ha prodotto una devastazione senza precedenti in una delle aree più intatte del Parco Nazionale, fanno notare da Pennino Ecosistema, che nell'esposto presentato sottolinea ancora che le norme previste dalla legge quadro sulle aree protette come norme di salvaguardia devono essere applicate, in quanto il regolamento del Parco non è ancora vigente e che pertanto eventuali nulla osta rilasciati dall'ente Parco sono illegittimi.